Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon mercoledì 13 aprile, altra giornata di sole qui a Torino, ma il clima si è leggermente rinfrescato rispetto ai giorni scorsi, tra poco vedremo che cosa ci aspetta per il pomeriggio, intanto ascoltiamo le notizie di viabilità, lo facciamo come sempre con Walter Gerbi dalla Centrale Operativa dei Vigili Urbani. Buon mercoledì 13 aprile, le notizie di oggi, controllo velocità sui corsi Giulio Cesare, Grosseto, Peschiera, De Nicola, Vercelli, strada dell'aeroporto, Lungostura, Lazio, dalle 14 alle 19, lavori edili, in corso Svizzera, tra via Bendici e via Nicola Fabrizzi, semafori di manutenzione in Salte Sano, in corso Rosselli e Angolo via San Paolo, in corso Grosseto, Angolo via Chiesa della Salute, in via Guidoreni, Angolo via Boston, rallentamenti sui lunghi po' Dias e Cadorna per lavoro, presidio dalle 12.30 alle 15, in corso Tazzoli, fronte Porta 2 a Fiat, CGL FIOM, lavoratori in cassa integrazione, iniziative speciali per la Biennale della Democrazia, sino a domenica, in piazza Castello e piazza Carignano, al Gotto Fieri il Salone Affidabilità e Tecnologie, sino a domani, alle 21, al Palle Sozzachi, palasporto olimpico di corso Sebastopoli, spettacolo di Roberto Benì e all'auditorium dell'Ingotto, il concerto di Dalle e De Gregori. Annullato lo sciopero della metropolitana previsto per venerdì 15 aprile, riapertura del ponte di via Bologna, strada 6, venerdì 22 aprile. È tutto, buona giornata, buon viaggio. Bene, grazie Walter per la viabilità. Noi passiamo allora a vedere la situazione del tempo, come vi dicevo, il sole la fa da padrone anche questa mattina in città, però le temperature sono scese anche in virtù del forte vento che c'è stato nel tardo pomeriggio di ieri, questa mattina le temperature ci dicono che siamo intorno ai 17 gradi scarsi per quanto riguarda la temperatura dell'aria, 15 scarsi per quanto riguarda la temperatura percepita, rispetto a ieri l'abbassamento alla stessa ora è di circa 6-7 gradi, umidità molto bassa, siamo intorno al 19%, questo perché il vento è ancora presente in città, raffiche molto forti anche nel corso della prima mattina, raffiche intorno ai 100-130 km orari, quindi molto forti, venti da est-nord-est, per quanto riguarda quest'oggi avremo cielo sereno con temperature massime intorno ai 18-19 gradi, a partire dalle 20 qualche nuvola potrebbe manifestarsi nel cielo di Torino anche perché per la giornata di domani è prevista pioggia, ma ovviamente questo staremo a vederlo nelle prossime ore. Passando invece agli appuntamenti istituzionali previsti per quest'oggi, vi segnalo che oggi è il giorno della presentazione alla stampa di Mito, della quinta edizione del festival che si svolgerà proprio nel mese di settembre di quest'anno, alle 12 la conferenza stampa sarà nella città di Milano, alle 17.30 poi si sposterà qui a Torino al Teatro Vittoria alla presenza ovviamente del Sindaco, questa sera poi il Sindaco sarà al Palaiso Zacchi alle 21 nell'ambito di Biennale Democrazia per assistere al sesto canto del purgatorio letto da Roberto Benigni. Andiamo a vedere invece le notizie di Torino Click, l'agenzia quotidiana della città che come sapete trovate in formato pdf sulla nostra home page. La prima notizia riguarda i raduni militari perché nelle celebrazioni del 150esimo saranno una delle celebrazioni più importanti, si svolgeranno tutti qui a Torino quest'anno ebbene si comincia questo weekend con i granatieri di Sardegna, inizio delle celebrazioni previsto venerdì con un convegno al Circo degli Ufficiali di Corso Vinsaglio, poi sabato sera in Piazza San Carlo alle 21 ci sarà un concerto intitolato 352 anni di musica, uniformi e bandiere e poi il raduno vero e proprio che sarà nella giornata di domenica in Piazza Castello con le 11.30 all'inizio della parata che sfilerà poi per via Roma Piazza San Carlo e Piazza Carlo Felice. La curiosità è che al raduno parteciperanno anche le guardie della regina Elisabetta, quelle che trovate davanti a Buckingham Palace. L'altra notizia invece riguarda un'iniziativa del Centro Informa Giovani, un'iniziativa dedicata ai giovani che fanno impresa a partire da questo giovedì dalle 15 alle 18, chiedi al commercialista ovvero servizi di consulenza gratuiti con dei commercialisti iscritti all'ordine che danno una mano ovviamente ai giovani che hanno un'impresa di stricarsi nel labirinto dei tributi. La prenotazione per poter avere la consulenza gratuita è possibile fino al 30 di giugno. Adesso andiamo sulla nostra home page, vediamo che notizia abbiamo selezionato tra quelle che sono pubblicate in prima pagina, si tratta dei biglietti omaggio con Torino Giovani che offrono quest'oggi alle 15 sulla loro pagina Facebook tre biglietti omaggio per il concerto dei ministri che si terrà venerdì all'Hiroshima Monomuro. Trovate ovviamente la possibilità di vincere i biglietti alle 15 sul Facebook di Torino Giovani. Ora un'occhiata al traffico in città con le telecamere del Consorzio 5T cominciando dalla telecamera di Corso Moncalieri in direzione nord, come vedete traffico che scorre senza nessun problema. Ci spostiamo poi in Piazza Derna direzione sud quindi verso il centro città su Corso Giulio Cesare un po' di traffico alla rotonda ma niente di particolarmente complicato così come tranquilla è la situazione in Piazzale Caio Mario in direzione sud su Corso Unione Sovietica. Molto meno tranquilla invece in Corso Siracusa all'altezza di Via Tirreno come vedete abbiamo traffico sul lato destro del teleschermo. È tutto per questa mattina allora grazie per averci seguito, grazie a Mario Parena per la messa in onda, a voi l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.